Monetizzazione dei parcheggi, un danno o un'opportunità? Sicuramente un'opportunità, perché non si tratta di una tassa, perché adesso si ha la possibilità, tutti coloro che vogliono fare imprese, nella fattispecie un'impresa commerciale, hanno la possibilità attraverso la monetizzazione appunto dei parcheggi di poter aprire un'attività. E' bene fare chiarezza su una cosa, la monetizzazione dei parcheggi si applica alle attività che vogliono aprire, non quelle esistenti, e quindi si dà la possibilità attraverso appunto questo strumento di poter fare aprire delle attività commerciali nelle zone A e nelle zone B del tessuto urbano alcamese. Quali sono le differenze con il passato? Il vincolo a parcheggi era previsto prima, ora cosa cambia? Ora cambia tutto attraverso una legge del 2000 che dà appunto questa possibilità, quindi sarebbe anche il caso di sottolineare il fatto che da oggi, anzi da ieri, ed era già 17 anni che Alcamo poteva avere questa possibilità, da oggi cambia un po' l'aspetto anche strategico del sistema produttivo commerciale di Alcamo, quindi tutti coloro che vogliono aprire un'impresa è bene sottolineato, ma anche persone di fuori che vogliono investire nel territorio di Alcamo, nelle zone A e nelle zone B del centro di Alcamo individuate dal piano regolatore generale, potranno finalmente aprire un'attività. I fondi che proverranno dalla monetizzazione dei parcheggi verranno destinati appunto in un fondo del comune che serviranno appunto per dare la possibilità di creare dei parcheggi a supporto delle attività. Ed è un pagamento che avverrà ogni anno o è un pagamento unico? No, è un pagamento unico, si fa una volta sola, tra l'altro c'è la possibilità anche attraverso una variazione del regolamento di inizio nella facilitazione dei cambi di destinazione d'uso e chi è il soggetto che farà la monetizzazione, il proprietario o l'esercente o l'affettuato, quindi colui che ha il titolo per poter esercitare l'attività commerciale nel territorio di Alcamo.